100 giorni di mandato per il garante dei diritti dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che ha voluto celebrare questa data con un convegno nel quale è stato posto al centro la salute mentale e il suo rapporto con gli istituti di detenzione. Dopo la legge che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari nel marzo 2015 e sostituiti con le REMS strutture riabilitative, Ciambriello insieme al garante toscano Franco Corleone e altri rappresentanti delle istituzioni ha cercato di fare chiarezza per restituire dignità alle persone detenute con problemi di salute mentale. Diciamo che molte di queste malattie si consumano nel carcere come diverse malattie infettive, come problemi respiratori, problemi connessi al cuore di cardiologia. Il carcere non fa bene, io dico sempre che alla persona che sbaglia deve essere tolto il diritto alla libertà ma non il diritto alla dignità, alle relazioni, alla sanità, alla socializzazione, agli spazi. Alcune di queste articolazioni o c'è il rischio che in qualche REMS già questa è una bella vittoria, poi non ci sia un'incomprensione e qui oggi avremo dei giudici di sorveglianza anche con la magistratura perché vedete alla fine chi deve stare in carcere o chi deve uscire, chi deve stare in carcere deve andare in una REMS, chi deve andare in carcere oppure stare agli arresti domiciliari lo decide una magistratura, una magistratura di sorveglianza. Oggi ho messo su questo convegno 100 giorni diciamo dalla mia elezione in consiglio regionale perché voglio tentare di fare rete e tentare di mettere insieme questi più soggetti. Grazie. Grazie. Grazie.